Ora sempre a Dottore Barocco, Arcangelo Carcorelli, tema natalizio, il titolo è concerto fatto per la notte di Natale, vi bacio grave, allegro, adagio, allegro, adagio, vi bacio, allegro, pastorale, d'argo, quindi è grande la fine. Vi solisti, violini solisti, Ligue e Elisabetta Cresta. Vi solisti, violini solisti, Ligue e Elisabetta Cresta. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.